Ok, partiti! Ciao ragazzi! Oggi per il nuovo episodio di Urban Trip siamo a Monticelli, quartiere di Ascoli Piceno. Qualcuno di voi ci ha segnalato che qui c'è un palazzo che ha dell'assurdo. Andiamo a scoprirlo! Oh, il palazzo è grande, ma ci sarà stato 7-8 anni fa, arrivò stata un'azione. A casa di qui l'è arrivata. Ci stava scritto che questo denaro non sia futile di spendio, ma la nascita di un palazzo stupendo. Noi l'abbiamo preso alla lettera, ci siamo organizzati e siamo chiamati alla ditta. E appunto ognuno era responsabile di qualcosa. Io curo ancora il bosco verticale perché sono giardiniera. Io mi occupavo degli appartamenti, sono stato architetto. Is della biblioteca. Lo padre Dechella ha aperto il bar e il ristorante. Sì, sì, dentro ci sono dei gambetti da calcetto. Sì, ma infatti due o tre volte a settimana a me non ci andiamo a giocare. Vero? Sì, sì. Non ci abito, però ci sono col gruppo e c'è anche un bel auditorium sotto. Pure l'auditorium? Scusate, ma tutto dentro il palazzo? È certo, cara mia, siamo pensati a tutto noi, che ti credi? E mentre gli operai lavoravamo, noi preparavamo le merenze per tutti. Oh, quante feste! Io non lo trovo. Eh, no. Ah, il nostro palazzo rappresenta proprio i valori che abbiamo. L'altruismo, la collaborazione, la solidarietà. Abbiamo pure donato i primi appartamenti ai più bisognosi. E questo è proprio un motivo d'orgoglio per tutta la comunità. Ognuno ci ha messo del suo mattoncino su mattoncino. Sì, mattoncino su mattoncino, è finita la giornata, ma il palazzo non l'abbiamo ancora visto. Beh, ora vi ci porto io. Eccolo là. Visto? Te l'avevo detto che non c'era niente. No, io te l'avevo detto. Dai, andiamo via che stiamo perdendo calma. Ma dove andate? E' proprio qui. Oh, portate il piede. Prova. 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 No, io te l'avevo detto che non c'era niente. No, io te l'avevo detto che non c'era niente. Grazie.